Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere quello che è il consultivo della giornata del 31 di gennaio utilizzando le strategie Volumaster in intraday prendiamo la calcolatrice quello che si è realizzato è 450 più 450 più 45 più 712 meno 229 meno 68 più 621 più 207 quindi 2188 euro in una sola giornata operativa grazie alle tecniche Volumaster se non sei ancora iscritto iscriviti alla presentazione trovi il link qui sotto, non mancare